Ciao a tutti ragazzi e ragazze Benvenuti in questo nuovo video Allora ragazzi in questo video vi vorrei far vedere Il mio lenzuolo kawaii Allora incominciamo ve lo descrivo Allora qui c'è Un grandissimo unicorno Che mangia questo biscotto Qui ci sono del brisle Qui c'è un biscotto Molto carino E poi qui c'è un biscotto Ovviamente triste Perché viene mangiato da questo unicorno Che porta via Il resto dei suoi amichetti Perché questo è il pacco di biscotti Se non sbaglio Si Si è scritto cookies Poi Si Lo giriamo C'è tutto C'è l'unicorno Che fa tantissime azioni Ma si viene di Arrabbiato È stra-gigante C'è tutte queste cose Viene mangiato da un biscotto È stra-gigante Che mangia un biscotto Viene mangiato da un biscotto Oh mio Dio Oh mio Dio Troppo carino Poi abbiamo Questo cossino qua Allora Che qui davanti C'è questo unicorno Che mangia E qui c'è scritto Allora C'è il biscotto E c'è scritto Eat What You love Allora Mangia Cosa Qua tipo Amati Credo O amati E niente Questo era il mio Lenzuolo Kawai Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così lasciate un like Quello che volete voi Se volete vi potete Iscrivere al mio canale E se volete Mi potete seguire Sui musicali Mi chiamo Kawaii Franci E se volete Potete mettere I cuori Ai musicali Che vi piacciono E commentate Se volete essere salutati E vabbè ragazzi Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ah una cosa Però stavolta Me lo dovete scrivere Volete che vi chiami Pandacorni Scrivetemelo giù Nei commenti Per favore E niente Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao